Bad Wars, con il Lucky Block, con i consolini Non aggiungo altro, siamo uno contro uno contro uno contro uno contro uno contro uno Ovvero siamo in sei In tutto, ovviamente compresi noi E quest'oggi ci affronteremo in questa mappa Allora, abbiamo diversi consolini piazzati un po' in tutte le basi Come potete vedere, qua c'è Nat ad esempio Ci sono un po' di consolini ovunque La mappa è gigantesca E fra poco vi spiegherò come funziona Ferre te lo ricordi ad esempio? O ti faccio l'interrogazione? Sì, no, se deve rimanere come le altre volte che l'abbiamo fatto Ok Presta poco Ok, allora abbiamo una chest con 5 Lucky Block Ok Che potremo aprire quando vogliamo Diversi NPC che ci permettono un sacco di scambi Dei bottoni da premere per ricevere lingotti di ferro e di oro E il nostro obiettivo sarà andare al centro ad aprire più Lucky Block possibile in 5 minuti Perché dopo 5 minuti potremo attaccare i letti avversari Attenzione, nei 5 minuti puoi ammazzare gli altri Ma non puoi andare a distruggire il loro letto Perfetto, perfetto Quindi tutto chiaro? Sì, chiarissimo Pronta? Allora Dai via e ci siamo In game mode 0 Siamo pronti? Sì Io sono carichissimo Anche se ho paura Devo stare sincera No io non è assurda Perché te l'ho detto Finché eravamo solo un'idea che stiamo scarsevicendo Ok, ma magari loro sono bravi Quindi cioè Steph ci distruggono qui Vado? Vai Via! Ok, let's go Io mi apro prima di tutto i 5 Lucky Block Voglio sentare la fortuna Subito Vado sul soffitto della mia base e me li apro Sì Ok Io invece mi farmo tipo 10 lingotti di entrambe le cose raga Perché almeno quelli così ce li ho E poi vediamo un pochettino Cosa? Ero io Fere hai rotto tutto Hai rotto la base di tutti Ma come è possibile? Era un Lucky Block Dai Fere È colpa mia? Sì, cavolo Ora non possiamo più formare nulla Hai rotto il video Guarda, uno è pure crashato Io ti odio Era un Lucky Block No, non sei perdonabile Che vuoi? No, non sei perdonabile Allora, questo E poi aspetta La mia base non è che sia così tanto distrutta Sono una parte Cioè le altre sono proprio distrutte Beh, perché è esploso Nel punto in cui sei come posizione Eravamo tutti a farmare i bottoni Tranne te E ci hai fatto esplodere tutti Ma io non ero da un'altra parte, Steph È la posizione di ogni player Ha fatto una bomba dove c'era ogni player Ah Quindi tu hai distrutto la base di tutti Ok In un colpo solo Bene Grazie Tipo, se io faccio così E faccio così E poi mi do Uno di Iron Tutta colpa di Fere Lo voglio leggere in chat Fino a dopo domani No, Steph Io ho porto dei Lucky Block Io ho porto solo un Lucky Block Non mi rompere Non è stata colpa mia No, perché sono voluto Ti dare ragione Ma non è stato Steph, me ne vado L'ho aggiustato? Ok Io l'ho aggiustato Vado ad aggiustare quello degli altri Ok, vai Allora Ok Devo mettere I bottoni li stai rimettendo? Sì In questo modo funzionano Dai, aggiustali Sì No, senza Senza Aggiustali Dimmi te cosa devo fare No, no C'è invece che combattere Perché altrimenti è difficilissimo giocarsela Ok 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 Allora Aspetta che facciamo tipo Un percorso per arrivarci Ok Opla Stavo per cadere Ok, così dovrebbe andare E dopodiché Steph aggiusta tutto Dai, anziché giocartelo Vai aggiustare le basi di tutto Grande Grande Ti voglio bene, Fer Io no Ok Tieni amico mio Spero abbiano capito che sto aggiustando Tu non c'è bisogno, vero? Perché tu non sei mai distrutta La furba Ma che vuoi? Qua non c'è nessuno E qua c'è Nat Ok Sì, Nat ci penso io Tu non mi senti Aspetta, glielo scrivo Ma sono la giusta tutto Steph Vi sta aggiustando Così lo stanno Aggiustando Perché non riesco a scrivere aggiustando le basi? No Ho sbagliato Ok 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 Prova Vai Prova Prova Premi Destro Do it not Sì Vai Stava chiedendo se poteva iniziare a formare È un bravo ragazzo lui Ok Sì 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 Li funziona Li funziona Ma in tutto questo Steph Con i tuoi l'acquiblock Hai trovato qualcosa di bello? Una bella spada Un'arma Sono solo esploso Manco io Sempre solo esploso Solo cose brutte Cose brutte a me Agli altri Non lo so Lo so Lo so Infatti la mia speranza è ritrovare esmeraldi Invece trovo sempre solo diamanti Anche io ritrovare esmeraldi Non si possono scambiare Mi sa proprio di no Perché ci sono? Non lo so Vabbè però se trovi degli stick ti fai da solo l'armatura alle spade In effetti basta un po' di legna E ti fai la crafting table Ti fai tutta l'armatura in diamante Non è male Non è male Ok Allora io mi sa che arrivo a 30 Vediamo un pochettino di fare shopping Allora Ok io sto andando qua Vediamo Cavallo Stai qui E stai al sicuro Mi raccomando Tu sei il mio cavallo di battaglia Ok Io mi apro anche questi Visto che ci sono Ti prego dimmi che non stai avendo in base Ok Stiamo andando al console Di non vanno male Sarebbe stato un problema Allora Un po' di blocchi Me li devo prendere Facciamo una stack E così sono apposto sotto questo punto di vista Un po' di legna Me la prendo Perché sapete bene cosa voglio fare E poi vediamo Other items Di che si parla Me la doro Arco Frecce A me sono succedendo robe stranissime Not bad at all E poi Devo uscire da qui Devo uscire E ritappare perché c'è un mostro qui dentro No 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 Ma tu stai continuando a piersere lo lucky block? Sì perché avevo ancora i miei 10 Più sono andata in un'isola e ne ho continuato ad aprire Il problema è che ho fatto un Ma ti è mai andato bene qualcosa? No Cioè vorrei trovare sinceramente un'armatura Ma sembra che non ci siano armature o cose Cioè mi capitano solo i 20 Non lo so Sono molto strani Non lo so Solo che sto spammando oro Per riuscire a farmi l'armatura Io a sto punto sto andando di farm di gioco normale Perché sti lucky block vi stanno andando male a tutti Quindi sinceramente Esatto Che poi sto aspettando un momento in cui Mentre tu si rispacchi il lucky block Riesplode tutto E mi ribrucchi la base Oh no Anche frost all'omega o è Oh It's a big problem Sono già in due adesso da avercelo Vorrei sinceramente coprire meglio il letto Però l'obsidian cosa mi chiede? Ah gli smeraldi Che ancora non abbiamo trovato Accidenti Oh cavolo In effetti andrebbe coperto il letto Eh io l'ho coperto con un po' di sabbia Io mi ero dimenticato di averlo coprire Non l'hai neanche coperto No io ti ripeto Ho messo un po' di sabbia Ma vorrei del Dell'ossidiana Il problema è che ci vogliono gli smeraldi Che non abbiamo mai trovato Ok Allora Credo che ci siamo Uh 30 secondi E si parte Anche se qua siamo messi tutti male Secondo me Allora Devo farmare un altro po' di blocchi Devo riuscire a coprirmi il letto E prendermi altre due o tre cose nello shopping Oh cavolo Io punto Chiunque sia questo consolino blu Perché è il più vicino Devo chillare qualcuno Per forza Comunque ho visto che stanno tutti coprendo ovviamente il letto in sabbia Non è che ci puoi fare molto Beh perché gli smeraldi sono difficili Dovresti andare al centro per gli smeraldi Ci ho provato Ho trovato il cavallo Poi ho Allora c'era un consolino che apriva l'hacky block Ne ho aperti anch'io Sono caduta Sono morta E sono tornata qui Capite Ok ho capito È stata una storia triste Io non so che fare Se giocarmela difensiva Andare a Ho rotto un letto io Davvero? No Calmo 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 Ok Ho ucciso Duke Le ho rotto il letto Ma povero E vabbè Il momento deve far sembrare crurele questa Sì Che vuoi? Ma poi lo sei Vale tutto Uno in meno Scusami Ma forse non si è neanche reso conto che gli ho distrutto il letto Lo sai? Perché sono stato talmente stealth Ah beh sì Non si è reso conto Allora io volevo Stavo osservando Il consolino nella base a fianco alla mia Che è quello tra la mia e la tua È presente che c'è un consolino Sì Una base tipo grigia penso E sta facendo una muraglia intorno al suo letto Cioè a sabbia A blocchi di lana Di tutto Quindi Ma anche il verde sta facendo un gran casino Però aspetta si sta spostando Sta venendo da me O da te O da me Forse da te E allora vado nella sua base stealth Che stagione c'è uno mega wither Sneaky sneaky Chi è che sta venendo? Ok Lighting wolf Fight No Sono caduta da sola Ma cosa ha trovato? Una bella Su forte Un hit Un hit Io volevo andare a distruggerli il letto Tienilo occupato Steph Sì e poi lo devi uccidere Vabbè però per ora distrugge il letto Mi amo risciutato Allora raga C'è un solo modo per vincere Con la furbizia Che furbizia? No ma no È venuta a regalarmi lui Ma così no Ma no Ma adesso non posso ucciderlo E tu non puoi andare a spaccare lì la base Sì che posso Io non c'entro niente in tutto questo Nessuno mi vede Io l'ho avvisato Rotelletto Però adesso questa rima mi dà un ceffone Io non so se la mia spada possa essere Allora vado a rissare a sto punto Ok Allora Scappo Io ho solo una tecnica per poter vincere questa battaglia Arco e frecce Che succede? Dov'è Steph? Perché c'hai un cavolo di lupo che ti dà una mano? Sono al centro che fai il tocco nato Sto vedendo No Light Wolf Lighting Wolf È fortissimo Steph Ha quest'ascia Cioè a me è distrutto Io l'ho colpito Gli ho fatto danno Ma lui con l'ascia continua a darmi solo un hit Ha fatto uccidermi Ha avuto una fortuna assurda Ha trovato un'ascia fortissima Non è uno eh? È un'ascia quella? No no è un'ascia Un'ascia Lui ha un'ascia Noi non l'abbiamo trovato mai Né un'armatura né un'arma Omega X Omega X Eh eh Allora l'unica è buttarlo giù L'unica è buttarlo giù Io ci ho provato a buttarlo un po' giù Ma cioè ti dava un colpo Ti distruggeva Credo che anche Nat sia fuori L'ha distrutto il letto? Eh penso di sì Quindi rimango Io Light Light è chi? E forse Non mi ricordo Ma vediamo Frost non mi sembra che sia stato uscito Scusami Esatto Frost è qua Duke l'hai ucciso tu giusto? Sì Ah Frost è lì Ho trovato Light Troppo vicino No Light è niente Devo capire se è andato dietro Perché sono andato a distruggerli Te l'ho detto Io non ti dico nulla Osservo e basta Come cavolo? Mi limito a ridacchiare Perché so molte cose Però non ti posso dire niente Ok Ok Aia Ti stanno pestando? Sì perché Nat in realtà non ha mai perso il letto Perché praticamente è riuscito in qualche modo a prendersi gli smeraldi L'ho visto Ed è tutto bedrock L'ho visto Alla base è totalmente in ossidiana Sì Non bedrock Che stai copiando? Distruggo la base di Frost Io non sai cosa ti fa? No Avrei dovuto prepararmi Lo sapevo No c'è questo Witherstep Che è un problema per tutti eh Totalmente Cioè vedo anche Nat che cerca di andare al centro E questo qua che continua a lanciare cose Non so se farlo fuori Ma non sarebbe giusto intervenire Eh Non lo so Non lo so Secondo me è bello Un boss di Sta davvero Davvero dando Dando fastidio Opla Frost Gli ho rotto il letto Povero Frost Che poi ce l'ha lavato ovunque E lui no Opla Allora io poi in realtà ho l'OEUP Perché me l'aveva regato Light Però non lo sto usando Perché dato che io non l'ho trovato Non lo uso No un peccato Sono uno contro uno con Nat quindi Mi sa di sì Beh Frost è anche morto No Frost è qua eh Frost? Frost è morto alla fine Cioè gli ha rotto il letto Ma è morto anche lui? Sì Ok Eh quindi sì Uno contro uno Dai me lo godo qua Vediamo Ma c'è il lupo Perché c'è un lupo a testa in gioco e combattere? Dai stavi cadendo Dov'è? Dov'è? Ma io ho ancora l'armatura in diamante? Sì Quel lupo ha una rottura di scattole Ho notato Quel lupo ha una cavolo di rottura di scattole Sembra un guerriero Un tappetto nudo Sì 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 È cattivissimo Un gladiatore sembra Capito? Fa una paura Non si è messo niente Solo l'elmetto e le scarpe Io non capisco perché lui non prende danno Non lo so Non posso vedere la sua vita Quindi non ti so dire Ti giuro È immortale Cioè io ho l'armatura Lui no Perché è un gladiatore Steph Ho mangiato anche una mela d'oro Te l'ho detto Schiatta Tu però se senza letto Lui ce l'ha ancora Quindi la battaglia Non è minimamente finita Lo so Allora spostati tu Devo farmare Cavallo Sei un po' troppo veloce Devo dirtelo proprio Sincero Cioè io ho paura Sei caduto da solo Te la sei portata male Però eh Io lo sapevo che non ci dovevo salire Era troppo veloce quel cavallo Ma io prima sono caduto Perché era troppo veloce E appunto E poi tu perché hai cercato di riprendertelo Perché ho pensato Complimenti a Matt Se sono veloce Posso arrivare alla sua base Di suggerire il letto Perché serve tempo Per il suggerire l'osidiana Però era troppo veloce Però era troppo veloce Dai ci stai È stato divertente Nonostante gli imprevisti Tutte le cose È stato un casino Gli imprevisti È normale Con i lucky block Possono succedere cose belle Ma sono stati decisamente troppi Eh vabbè ma capita Eh certo perché è colpa tua Non è stato colpa mia L'avessi fatto io Raga avrebbe blamato Per 42 ore Ma non è vero Se si avrebbe ricordato Tra 5 anni In ogni caso Qua sotto Compaiono altri video Tanti like Se ci volete vedere Fare altri video Con i consolini Spero un po' meno incasinati Di questi Anche su Minecraft Iscriviti al canale Cliccate i campbellini E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao